Se trovi il nuovo ombrello, beh, il video finisce Ragazzi, volete giochi a prezzi scontatissimi? Beh, andate nella descrizione dei miei video e nella sezione social cliccate su questo link Andrete su Instant Gaming, un sito, raga, dove ci sono giochi veramente a prezzi stracciati Ma non solo, potete neanche trovare abbonamenti del PSN e card del PSN a prezzi scontati Quindi mi raccomando, ragazzi, fateci un salto Ok, ragazzi, ci stiamo dirigendo a Lazy per tentare la chiusura di oggi che se trovo l'ombrello il video finisce Diceva che sono abbastanza preoccupato perché io non ho capito con che cadenza sponi Ho fatto un paio di partite e non l'ho trovato, ragazzi, quindi Boh, sembra difficile, io ora non vorrei portarmi seccia Comunque, vediamo, allora, io ho il panico ora ogni volta che aprirò una chest Cioè, esatto, sarà molto divertente Allora, vediamo un attimo qui sotto, pistole, meh, ok Io ti passo, esatto, se lo trovassimo ora dopo 10 partite in cui non l'abbiamo trovato, veramente c'è sbrocco Comunque, ragazzi, ricordo a tutti che ogni sera siamo in live alle 21 Infatti è un grino ragazzo con il quale gioco spesso in live Mi raccomando, se anche voi volete starci in live perché portiamo tanti giochi Perché gioco anche con voi, tra l'altro Vi lascio in descrizione nella sezione di live streaming il link al sito al canale Viola Dove, appunto, io faccio le streaming ogni sera alle 21, ragazzi Quindi vi aspetto, mi raccomando, iniziatemi a seguire 31, 63, laserato, credo abbia 40 di vita a meno che non sicuri Sta qui Rose is a red, oh, Mario c'è Ace from death, ace from death Allora, oh, di chi è questo c'è quattro? Ok Ok Attenzione, sì 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 Quattro non sei cazzati, ragazzi Eh uh Attenzione, sta uno qua 64 Oh, madonna No, stava un altro sopra, stava un altro sopra Stavano come i torci Oh, oh, eh uh Madonna, pure io Col piccone, ma che c'è? Chiudi che fa freddo, frasco, fa corrente, fa corrente Vorrei farvi vedere anche lo scudo, ragazzi, se lo trovassimo Solo che il video deve finire Magari mi date tre secondi Eh vabbè, pozze piccole, vabbè, tu sorella Dai Sì sì, arriva, arriva Aspè Faccio vedere quest'altro lato Vai, vai Bello fresco Oh, oh, oh Dove, 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 dove Dietro, dietro, dietro Madonna, frate, come l'abbiamo distrutto Ci ho fatto una cosa Non ha capito neanche sul pianeta in cui si trovava Cioè Vabbè, ciao Comunque, se volete vedere io che utilizzo l'ombrello Ragazzi, cioè, mi raccomando Venite in live Che sicuramente lì lo utilizzeremo Ah, 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 ah Pizzi Lì, lì 33, 33, ma che c'è? Perché ti fermo? Perché Cioè, si è fermato Perché Il compagno sta dietro Ma, 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 ma ancora è sparato Vabbè Ah, questo lo accetto volentieri Il compagno sta in lontananza Credo di poterlo vedere Sì, sta sulla montagna lì Uh, c'ha l'ombrello E no, fra, io non Non posso prenderlo Non posso vederlo No, no, no Fra, fra, vattene, vattene Non lo eliminare Non lo eliminare Non lo eliminare Io non posso Lascia stare Vattene, 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 vattene Non lo possiamo eliminare Fra, non lo possiamo eliminare Se lo eliminiamo il video finisce Corri via Corri, emigreen Più veloce del vento Hai una jump o qualcosa No, dai, 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 dai Dobbiamo spaventarlo Dobbiamo spaventarlo Dove sei? Corri, 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 emigreen No, lascia stare, lascia stare Comunque io l'avrei trovato Però Non devo assolutamente vederlo Cavolo, ragazzi Che cosa ridicola Ma stai sotto Il Cristo santo Ti possiamo distruggere Non vogliamo Lasciaci in pace No, vabbè, vabbè, vabbè Dai, no, dai Dio santo Ok Vattene, vattene Vai, fra, allora Eliminalo tu, eliminalo tu Vai Tanto è scarso Fra, è scarso, è scarso L'hai visto Vai, eliminalo Io sto girato, io sto girato Eliminalo Vai tranquillo E ce ne andiamo Mi sta, mi sta sparando What? Mi è arrivato un proiettile nella coscia What? Sì, sì, vabbè, vabbè Ok, ok Ok Oh, 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 oh Ma serio E' lui E' lui Ci sta seriamente inseguendo Tra, vedi un po' di eliminartelo È tutto nelle... Ok, vabbè 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 Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie.